Siamo con Piero Chiarini di Terra Monostra, alle nostre spalle il Teatro Romano, sullo sfondo il Palazzo Salvoni, dietro Casa Adamoli. Con questo terremoto, con le scosse di questi giorni, l'area a ridosso è stata transennata. C'è infatti il pericolo che queste abitazioni possano finire sull'abitato circostante. Con Terra Monostra, questi due palazzi erano stati attenzionati da tempo. Noi sono vent'anni che lottiamo per l'abbattimento di questi due caseggiati incongrui e non siamo riusciti, purtroppo, a tutt'oggi. Nonostante che è disponibile una somma di 3.485.000 euro che si potrebbe spendere tranquillamente per recuperare la cavea e per far sì che questo teatro romano diventa fruibile in pieno. Non finisce mai. Ma appunto per questo, prima che succeda qualcosa di grave, perché sappiamo che i due contrafforti incongrui costruiti, invece di abbattere Casa Adamoli, premono su Casa Salvone e giustamente gli abitanti che abitano nei dindorni hanno terrore e paura che possa finire addosso alle loro case. E noi chiediamo al sindaco di attivarsi subito affinché si addivenga a questa soluzione del recupero del teatro romano che la città aspetta da 20 anni, però ancora non se ne vede l'inizio dei lavori. Nonostante un cronoprogramma sottoscritto e firmato al Ministero della Cultura, dal sottosegretario Cecchi, dal sindaco, da Marco Pannella, da Teramo Nostra, non sappiamo che cosa è che impedisce questo grande sasso che impedisce il recupero del teatro romano. Qui bisogna solo recuperare la cavea e rendere fruibile riscoprendo le gradinate, perché è un progetto ambizioso, internazionale, ma il teatro è quello, non è che qui bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. Ci manca la buona volontà che purtroppo, io ripeto, i nostri amministratori da 20 anni a questa parte non hanno fatto niente per recuperarlo, questo bene prezioso per la nostra città.